Questo video riguarda i migliori 3 caffè in grani. Il vincitore della qualità è il Borbone Caffè Borbone. Il caffè in grani miscela rossa è il caffè ideale per chi vuole una carica di energia grazie al suo carattere deciso e al suo gusto intenso. Solo i chicchi più pregiati diventano caffè borbone, provare per credere. Scopri la linea Vending Caffè Borbone e prova le migliori miscele per distributori automatici, in Italia e all'estero. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Pellini Caffè in grani. Caffè in grani Pellini Espresso Bar No 82 Vivace Confezione da 1 kg. Miscela di caffè in grani, la selezione dei chicchi è fatta direttamente nei paesi di origine, confezionato in atmosfera protettiva. Caffè arabica lavati e naturali, caffè robusta naturale e livello di tostatura medio. Corposo e ben bilanciato nel gusto e nell'intensità dell'aroma per un espresso italiano deciso. Ogni espresso racchiude tutta l'esperienza Pellini, fatta di storia, tradizione e competenza nel creare miscele di qualità superiore. Il vincitore del premio è il Corsini Caffè. La storia di CAFFE Corsini inizia nel 1950 con Corsino Corsini, imprenditore aretino che trasformò la piccola realtà artigianale di famiglia in quella che oggi è una delle compagnie di caffè leader al mondo, fatta di idee e di persone. Caffè Corsini mette insieme passione, impegno, qualità, innovazione, valori etici e ricerca continua. Diffondere la cultura del caffè come stile di vita. Macinare al momento è la miglior garanzia per un espresso cremoso e profumato grazie alla freschezza dei chicchi come appena tostati. Una tazzina di caffè espresso intenso e cremoso, come al bar. Un rito per noi italiani, una certezza per ogni momento della giornata. La tostatura forte estrae le note persistenti e le fragranze decise della miscela, e saltandone le caratteristiche organolettiche. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.